Musica Musica Oggi qui nella nostra lavanderia cambiamo le offerte, mettiamo i cappotti di lana a 4 euro, se ne portate 5 ne pagate 4, anche così con i piumini di piume d'oga, sia lunghi che corti sono a 5 euro a pezzo, però se ne portate 5 ne pagate 4, poi facciamo anche orario continuato dalle 8 di mattina fino alle 19 di sera, potete venire anche a pranzo, siamo aperti e vi aspettiamo. Musica 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 Qui da Club Moda Parrucchieri, effettuando un taglio e una piega al costo di 20 euro, riceverete per tutto il giovedì di aprile un trucco omaggio. Musica 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 Benvenuti alla pescheria freschissima, da noi troverete tanta qualità, freschezza, abbiamo i gamberetti freschi di giornata, le potete fare con le zucchine, panna chef e un piatto abbastanza buono, poi abbiamo le triglie da fare fritte, buonissime, abbiamo le orate da fare al forno, Musica e spigole da fare all'acqua di mare, buonissime, pesce spada da fare ai ferri, calamari buonissimi, salmone, abbiamo tutte le qualità di pesce che voi cercate. Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti amici di Sesta Reta e per chi dovesse venire a trovarci su tutta la collezione Primavera e Estate della Lausanne avrete il 20% di sconto. Noi vestiamo da 0 a 7 anni. Qua c'è qualche completino, qualche abbinamento che potete vedere. E troverete anche la parte promozionale della Primavera e Estate sempre della Lausanne a prezzi da 15 euro a 10 euro più o meno. Venite a trovarsi, vi aspettiamo. E allora qui alla ricevitoria Cariotti, che già mi conoscete, abbiamo diversi geni servizi, dalle ricariche telefoniche a pagamento bollette, che sono abbinate sia a LIS che a SISAL, ma anche al riconto riguardo alle scommesse. Il provider MC Point, da due anni che abbiamo inserito quest'altro servizio, da due anni che abbiamo inserito quest'altro servizio, ma a parte abbiamo anche le slot e diversi altri servizi. Un altro servizio che abbiamo inserito è quello di cartoleria, con Internet Point e fotocopie, sia di file e altri servizi in generale. Oggi parliamo di prodotti al naturale per cani o per gatti. Tra i migliori prodotti che troviamo possiamo scegliere Uplows, possiamo scegliere Oasi, Petrit, Monger, che sono tra i migliori prodotti dei brand mondiali a produrre alimenti per cani o gatti al naturale. Da Quattro Zampe potete assicurarvi del fatto che li troverete sempre, quando volete e ai migliori prezzi. Grazie a tutti. Da Quidacarta troverete marchi alla moda a prezzi vantaggiosi per soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti. Prodotti e servizi, cartoleria, libreria scolastica, gadget, giocattoli, pupazzeria, argento, profumi e accessori in moda. Per finire un vasto assortimento di bomboniere per comunioni e cresima. Vi aspettiamo qui da Quidacarta al Viale Mario Pisardi 431. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore, D'Amico Gioielli offre ai propri clienti una vasta scelta di articoli di gioielleria. Concessionaria di marchi come Salvini, Giorgio Visconti, Davide Delucchi, Le Bebè e molto altro ancora, la D'Amico Gioielli è in grado di soddisfare tutte le vostre necessità. D'Amico Gioielli è inoltre concessionario ufficiale di Swarovski, Isola Bella, Miluna, oltre che di orologi come Philippi Walsh, Citizen, Sektor, Ferrari, Festina e L'Yugeot. Da noi trovi anche articoli da regalo e cornici. D'Amico Gioielli dal 1984. D'Amico Gioielli dal 1984. E oggi nel mio negozio ho trovato un'altra novità, stiamo parlando di tricologica, è un'ossigenoterapia che fa solo un beneficio ed un rinnovo cellulare sia del cuoio capelluto che del capello e anche della pelle. Ha tante funzioni, possiamo svilupparlo dove vogliamo e andiamo anche a fare dei mantenimenti del cuoio capelluto e di tutto ciò che residua sul cuoio capello e pelle. Adesso vi facciamo vedere anche il funzionamento. Io sto andando a fare un mantenimento dalla prima seduta iniziale. Il mantenimento lo sta facendo Mariella con un aerografo che adesso vi facciamo vedere. Il mantenimento lo sta facendo. Io in questa macelleria ho da un bel po' che la frequento e ho trovato un'ottima qualità come carne, tenera, buona, una grande ospitalità dai proprietari perché veramente sono squisiti. trovo tanta gentilezza e soprattutto quello che io trovo qui era una grande qualità, una carne buona, fresca soprattutto e a un ottimo prezzo. Gentilezza e cortesia troverete qua da peccati piccola, troverete tanti articoli da preparare, tutta roba fresca, tutta roba genuina. Non ci batte la concorrenza che abbiamo perché noi lavoriamo con prodotti genuini, prodotti di qualità, la concorrenza svedata che c'è in questo settore. Penso che la gente sta attenta a quello che compra. Lavoriamo con match buona e prezzi buoni. Grazie a tutti.